Sento il bisogno in questo primo Natale da Vescovo di Roma di dire un grande grazie a voi, sia a tutti come comunità di lavoro, sia a ciascuno personalmente. Lo ha detto Papa Francesco incontrando sabato mattina il personale della Curia Romana. Vi ringrazio, ha detto, per il vostro servizio di ogni giorno, per la cura, la diligenza, la creatività, per l'impegno non sempre agevole di collaborare nell'ufficio, di ascoltarsi, confrontarsi, valorizzare le diverse personalità e qualità nel rispetto reciproco. Competenza e servizio sono le caratteristiche del lavoro in Curia, senza le quali si scade in una modalità burocratica, ispettrice e inquisitrice, che non permette l'azione dello Spirito Santo e la crescita del popolo di Dio. Nella Curia, ha insistito il Papa, occorre poi anche la santità, che significa obiezioni di coscienza alle chiacchiere. Noi giustamente insistiamo molto sul valore dell'obiezione di coscienza, ma forse dobbiamo esercitarla per difenderci da una legge non scritta dei nostri ambienti, che purtroppo è quella delle chiacchiere. Le chiacchiere danneggiano la qualità delle persone, del lavoro e dell'ambiente. Papa Francesco ha infine avuto parole di apprezzamento per coloro che lasciano il servizio per raggiunti limiti di età.